La conversione delle persone era un problema molto serio nella Chiesa Apostolica perché gli ebrei credevano che per godere delle benedizioni di Dio, delle benedizioni dell'alleanza abramitica, ogni non-ebreo dovesse essere circonciso, ovvero essere unito all'ebraismo mediante la conversione. La settimana scorsa abbiamo visto come Paolo fu chiamato da Dio per diventare l'Apostolo dei Gentili, ma Paolo era una persona considerata strana e persino sospetta agli occhi degli altri apostoli a Gerusalemme perché nessuno di loro aveva lavorato per la conversione di Paolo. E poi Paolo era stato il nemico della fede, vi erano quindi dei sospetti su di lui da parte degli altri discepoli e apostoli di Gerusalemme. E fu proprio in questo contesto che Dio usò l'Apostolo Pietro per portare in Chiesa il primo gentile incirconciso. Lo leggiamo nel racconto di Cornelio riportato in Atti, capitolo 10. Il fatto che Dio avesse cercato di infrangere questa barriera tramite Pietro avrebbe reso le cose più facili per la Chiesa quando Paolo sarebbe entrato in scena. Eppure la battaglia sarebbe stata molto intensa, ci sarebbero state serie opposizioni da parte degli apostoli e dei credenti di Gerusalemme per quanto riguarda l'inclusione di persone nella fede. E la conversione di Cornelio fu qualcosa di straordinario. Dio agì potentemente sia in Cornelio sia in Pietro avvicinandosi a questi due individui. Dio agì anche mandando lo Spirito Santo a Cornelio e alla sua famiglia in modo che la Chiesa di Gerusalemme si potesse finalmente convincere che c'era Dio dietro quell'episodio. Era Dio che guidava e gestiva quella che fu la prima conversione di un gentile. E così Dio usò Pietro per rendere le cose più facili. Più tardi avrebbe usato con potenza l'Apostolo Paolo per portare il Vangelo al mondo, ai gentili. La circoncisione diventò un problema molto grave nella Chiesa giudaica. Molti continuarono a insistere sulla necessità di praticarla, ma il Vangelo è per grazia, deve essere ricevuto per fede. L'Apostolo Paolo combatté contro questo assunto durante tutto il suo ministero, ma Dio era già all'opera fin dal caso di Cornelio e avrebbe continuato durante il ministero di Paolo a insegnare alla Chiesa e ai gentili il Vangelo della salvezza attraverso la grazia in Gesù Cristo, nostro Signore. Siamo per la grazia in Gesù Cristo, nostro Signore.